Un patto per la città è stato siglato simbolicamente questa mattina tra l'amministrazione a Corinti e il movimento Reset che in campagna elettorale aveva proposto come suo candidato sindaco Alessandro Tinaglia. Si tratta di un accordo programmatico finalizzato alla risoluzione dei tanti problemi che afflichano la città e che mira al coinvolgimento della società civile e dei numerosi professionisti che fanno parte del movimento Reset, ha sottolineato il primo cittadino Renato a Corinti. Sì, soddisfatto Tinaglia che pure fino a qualche mese fa non aveva risparmiato pesanti critiche all'indirizzo del suo rivale nella corsa alla poltrona di sindaco. I primi due temi sui quali è prevista una convergenza, quelli rappresentati dalla raccolta differenziata, ferma al palo in città, e quello del trasporto pubblico con Reset che propone l'adozione di collegamenti a circolari invece che a pettine per ottimizzare l'impiego dei 45 autobus attualmente disponibili per coprire un territorio particolarmente vasto. Nel corso dell'incontro si è registrato un acceso confronto con il consigliere Lopress, eletta nella lista Cambiamo Messina dal basso ma non particolarmente entusiasta per l'avvenuto accordo.